I carabinieri forestale di Cerzeto nel Cosentino hanno posto sotto sequestro un'area di 15 mila metri quadrati nel comune di San Marco Argentano in località Maio Lungo. Sull'area sarebbero stati eseguiti dei lavori abusivi di movimento terra. Il controllo avviato dei militari ha evidenziato che per effettuare tali lavori sarebbe stata sdradicata la vegetazione preesistente consistente in un'area boscata di essenze corcine con presenza di macchia mediterranea. I lavori abusivi stante a quanto certificato dai militari sarebbero stati eseguiti dal proprietario del terreno senza alcuna autorizzazione in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale per la quale è necessaria l'autorizzazione dell'ente competente ovvero la regione Calabria oltre all'autorizzazione edilizia. I carabinieri a seguito del controllo hanno sottoposto a sequestro oltre all'area una macchina operatrice un camion con rimorchio. Inoltre hanno deferito all'autorità giudiziaria il proprietario del terreno appartenente ad una società agricola della zona. L'amministratore della medesima società è l'autore materiale dei lavori.